La mostra, dall'emblematico titolo Beside, l'anima della materia, esibisce i lavori della pittrice Laria Morganti, che ha al suo attivo una lunga serie di esposizioni nazionali ed internazionali di rilevante importanza. L'evento si svolge sotto leggeta ed il patrocinio morale del Consiglio regionale del Lazio in una sala del Chiostro del Bramante, straordinario esempio di architettura rinascimentale, sito nel centro storico di Roma. Opera di Donato Bramante fa parte del complesso che comprende anche l'antigua chiesa di Santa Maria della Pace, in cui si trovano le famose Sibille di Raffaello, 1515, eccezionale affresco di oltre 6 metri di larghezza, visibile anche dal Chiostro stesso. La mostra presso il Chiostro del Bramante ha avuto inizio il 1 giugno 2011 ed avrà termine il 3 luglio 2011. La mostra è a cura del professor Biagio Cacciola, commissione arte e sacro pontificio Università Gregoriana, che scrive «Nell'epoca dove tutto è consumato, espulso, escoriato, la pittura di Laria Morganti rappresenta una provocazione eccedente ogni forma iperrealistica. Gli oggetti, non biodegradabili, deteriorati, isolati, sfasciati, alienati, trovano una vita nuova nel mondo dell'artista, riscattando così loro le cose, l'ineluttabilità del tempo e dello spazio, rivelando così quel beside, come la mostra giustamente titola, occulto a occhi profani. Il terzo occhio della Morganti, invece, è vigile, certosino, analitico, affaticato nel rintracciare segni di vita esausti, da mettere al riparo, grazie a una pittura che si nutre della grande tradizione metafisica, da ogni forma di oltraggio moderno. In contemporanea con lo svolgimento della manifestazione romana, Ilaria Morganti sta esponendo le proprie opere alle tese di San Cristoforo presso l'arsenale di Venezia, Padiglione Italia Accademie, nell'ambito della imminente 54esima Biennale di Venezia, dal 3 giugno al 27 novembre 2011.